OpenSea spiegato in maniera semplice in meno di 10 minuti da CryptoNFT Italia. Ciao a tutti, io sono Ryan e in questo video parliamo del miglior marketplace di NFT al mondo, cioè OpenSea. Prima di andare avanti vi invitiamo ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi tanti altri contenuti come questo. Allora, entriamo subito nel dettaglio spiegando che OpenSea è un marketplace di NFT, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che noi all'interno di questo sito web possiamo comprare e vendere NFT, oltre a poterli creare. Abbiamo la possibilità infatti nella sezione Explorer, andando qui e cliccando su All NFT, di poter vedere tutti gli NFT listati e dividerli naturalmente e filtrarli per compra subito, per poter fare un'offerta, i nuovi, oppure per il prezzo. Li possiamo suddividere anche per la tipologia di collezione, i tratti e quant'altro. Quindi diciamo possiamo filtrarli a 360 gradi. Quello che vediamo qui è il nome dell'NFT, la collezione e il prezzo. In questo caso possiamo comprarlo a 0,01 Ethereum. Andando avanti andiamo ad analizzare come si vede, come si visiona un NFT. Questo è l'immagine dell'NFT che noi andremo a comprare. Questo è il nome, qui abbiamo la collezione e il proprietario dell'NFT. Qui possiamo vedere l'asta, quanto sta durando. Cioè in questo caso non è un'asta, ma generalmente se è un'asta o comunque quanto dura la vendita di questo NFT. Quindi quando scadrà la possibilità di poterlo comprare. Il prezzo, possiamo decidere di comprare addirittura con carta. Comprare adesso collegando un wallet. Tra poco vedremo come si fa nella sezione Create. Ma ci serve perché se vogliamo comprare abbiamo bisogno di Ethereum. E possiamo piazzare delle offerte. Qui invece possiamo vedere le proprietà, le proprietà di un NFT che servono a capire la rarità di quell'NFT. Migliori sono le proprietà, più potenzialmente costa l'NFT. Ed eventuali altri dettagli come anche le offerte che ha ricevuto, quando è stato listato, il token, il contratto dell'NFT. E naturalmente l'about della collezione, cioè ci spiega che cos'è la collezione. Cosa molto importante, se io clicco su esplora, infatti abbiamo la possibilità di vedere le varie collezioni che sono presenti all'interno di OpenSea. Quelle che hanno la spunta blu sono le collezioni verificate. Se io clicco su una collezione, ecco che la collezione si presenta in questa maniera. Questa è una delle migliori collezioni attuali che c'è su OpenSea. E come potete vedere io posso visionare il numero totale di items, quindi di NFT che sono in vendita nella collezione. Quante persone hanno questi NFT, quindi meno sono gli owners, significa che ci sono persone che vogliono detenere questi NFT e ne comprano anche più di uno. Il floor price, che è il prezzo minimo per poter comprare un NFT in questa collezione. In questo momento è di 2.88 che corrisponde più o meno, visto l'attuale prezzo di mercato, a 3.500-3.600 euro. E poi il totale del volume che è stato generato all'interno di questa collezione. Io qui posso sempre filtrare, a seconda anche dei tratti, eccetera, eccetera. E qui vedo i vari NFT, che sembrano simili in questo caso specifico, ma dipende da collezione a collezione. Vi faccio l'esempio, le board e IP che comunque sono diversi, hanno tratti distintivi. Ecco, questo è una tipologia di collezione. Ogni collezione è differente. Poi qui in alto ho tutti i link per poter andare ad analizzare la collezione. Andiamo avanti. Una cosa molto importante è loggarci con il nostro wallet. Per poterlo fare dobbiamo cliccare qui. I wallet che noi possiamo usare per poter acquistare e vendere e creare NFT su OpenSea sono Metamask, Coinbase Wallet, Wallet Connect, quindi Trust Wallet, Phantom, Glob e così via. Cosa molto importante, se io voglio creare un NFT lo posso fare e posso anche creare collezione all'interno di OpenSea. E quello che devo fare è praticamente cliccare su Create. Però se non collego il wallet non è una cosa che posso fare. Non vi faccio vedere come si crea un NFT su OpenSea in quanto l'abbiamo già trattato all'interno del canale. In più se io vado su Esplore abbiamo da poco la possibilità di poter visionare le collezioni di Solana. Infatti dovete considerare che Ethereum è il token per eccellenza degli NFT. Ma al secondo posto se dobbiamo mettere un altro token sicuramente mettiamo Solana. Perché? Perché Solana a differenza di Ethereum, per lo meno adesso poi ci sarà il merge quindi Ethereum 2.0, Solana comunque ha dei costi più bassi, transazioni più veloci e così via. E quindi quando andiamo a comprare e vendere NFT abbiamo meno commissioni. Che tra poco vedremo quante sono all'interno di OpenSea. Che comunque sulla rete di Ethereum sono più alte. Quindi anche qui io posso vedere le collezioni di Solana, ci posso cliccare su per analizzarle. Come potete vedere queste sono tutte differenti tra di loro e quindi di conseguenza io posso andare a visionare. Qui vedete i tratti e se volessi mettere per esempio un tratto molto 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 raro degli occhi. Ti metto questo cyborg che c'è solo uno e questo infatti costa più Solana, costa 12,5 Solana. Poi se io clicco sulle statistiche posso vedere la classifica delle migliori collezioni. Ok? E quindi come potete vedere posso andare a visionare le chain di Ethereum, Polygon, Clytion e Solana. E poi praticamente, e quindi tra l'altro su OpenSea ci sono queste chain. Tra l'altro su Polygon le commissioni sono bassissime. Ok? Possiamo vendere praticamente gratis. E possiamo vedere questa classifica per 24 ore, 7 giorni, 30 giorni e così via. Quindi come potete vedere, immaginare, cambiano. Infatti al primo posto abbiamo le bole Ape. Su Activity invece possiamo vedere quello che sta succedendo all'interno di OpenSea. E questo è molto importante perché possiamo vedere come si stanno comportando gli utenti. Se ci sono utenti che noi conosciamo possiamo anche duplicare un po' quello che è il lavoro che loro fanno. Quindi possiamo analizzare per prendere spunto da chi sa cosa si fa nel mondo degli NFT. Poi andiamo all'interno della sezione Help dove vi voglio far vedere quelle che sono le commissioni. Quando noi praticamente le commissioni di servizio di OpenSea. Il modello di OpenSea è semplice. Prendiamo, quindi dico quello che fa OpenSea, il 2,5% di ogni transazione che coinvolge un NFT che un utente sceglie di elencare utilizzando OpenSea. Quindi elencare significa mettere in vendita. Questo è tutto. Utenti e partner possono creare NFT gratuitamente in qualsiasi momento. Quindi possono creare gratis. In più il creator può mettere delle commissioni sulle vendite successive di queste NFT. Quindi se io creo un NFT e voglio guadagnare dalle varie vendite lo posso fare. Cosa molto importante invece è diversa ma questo non dipende da OpenSea. Sono le gas fee che comunque scompariranno e diminuiranno quando si passerà con il merge a Ethereum 2.0. Infatti pagherai le tariffe sul gas di Ethereum quando accetti un'offerta, trasferisci un NFT a qualcuno, acquisti un NFT, annulli un elenco, quindi una messa in vendita di un NFT, annulli un'offerta, converti i wrap di Ethereum in Ethereum e viceversa, congeli i tuoi metatati e fai altre robe. Le azioni invece senza gas, utilizzo degli strumenti di OpenSea per creare un nuovo NFT noto anche come l'Axi Minding, creazione che abbiamo spiegato nel tutorial quello completo, creazione di una collezione, inizializzazione account, distribuzione proxy eccetera eccetera. Quindi trovate questa pagina, tra l'altro se volete leggere questo articolo, anzi questi due articoli dove spieghiamo i costi totali, vi basterà lasciare un commento. Cosa molto importante, ripeto, OpenSea l'unica commissione che si prende è il 2,5% da ogni transazione, poi se volete creare un NFT eccetera ve lo fa fare gratis, però ci sono questi costi delle gasficche, se vedrete questo video dopo il merge probabilmente non ci saranno più o sono più bassi. Naturalmente questo per Ethereum, poi per quanto riguarda le altre collezioni Policon e Solana per esempio cambia tutto. Questo è quanto, questo è come funziona OpenSea. Naturalmente cosa molto importante, io se vado sulla sezione Explorer ho la possibilità di poter vedere le collezioni in funzione anche delle categorie perché abbiamo le opere d'arte e quindi io qua trovo naturalmente le collezioni sulle opere d'arte, trovo i nomi dominio che sono un'altra cosa molto interessante, a Stappable Domains penso che lo conoscete, potete comprare i domini in forma di NFT quindi unici, abbiamo la musica addirittura come potete vedere, quindi comunque molto variegata, abbiamo la fotografia come potete vedere, abbiamo lo sport, abbiamo le trading cards che è una cosa che piace moltissimo a molte persone, abbiamo le utility che possono essere utilizzate che significa anche nei videogame per esempio nei Play to Earn e poi abbiamo i Winter Wars, il metaverse essenzialmente, ok? Quindi questo è quello che abbiamo all'interno di OpenSea. Se avete dubbi o domande abbiamo deciso di lasciare i commenti qui in basso aperti e disponibili, saremo disponibili a rispondere a ogni domanda relativa al mondo di OpenSea, quindi se ci sono cose specifiche che volete sapere o video che andiamo a realizzare, fatecelo sapere. Con questo video abbiamo terminato, noi ci vediamo in un prossimo video, vi ricordo naturalmente se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al canale e attivare la campanellina di tutte le notifiche e un bel like per supportarci. Ciao e a presto!